tutti i ragazzi bella a tutti i ragazzi sono Declare in questo nuovo video oggi signori siamo tornati su Fortnite mi raccomando ragazzi di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale perchè ci avete 66 e 67 iscritti e dopo questo vi lascio al video allora ragazzi oggi salutiamo un po' di persone oggi salutiamo Giovanni Conigliari poi salutiamo un grande Salvex Salvex bella salvi mi raccomando di iscrivervi al canale di Salvex Salvex poi il grande Chilgor che ora in questi giorni ragazzi faremo dei video quindi mi raccomando di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale perchè non è facile non è complicato basta che girate il video e cliccate la campanellina e cliccate la parola iscriviti va bene ragazzi sappiate che comunque sto migliorando sempre di più su Fortnite dai ragazzi piano piano le chi le faccio e tutto spero veramente che nei video ci vediamo è anche vero che è arrivato predatore è arrivato su Fortnite ovviamente se si trova tipo ehm come si chiama aspetta non mi ricordo come si chiama vabbè ehm vabbè a fortezza a fortezza vabbè io mi butto qua perchè mi ha fatto buttare spazzare ok no devo ti ma perchè non mi fai buttare spazzare buttati buttati vuoi buttare qua vuoi buttare a foresta però devo sistemare ok devo andare a foresta primiante ok il germello è un pochino lagga però può andare può andare ho sbagliato ho sbagliato un po' bene vabbè però terrò nella casa quella grande perchè ragazzi è tanta roba anche se tecnicamente siamo nella foresta più totale quindi la sua ferro costosa vittoriamo che cazzo legionario non ci credo bene cecchino epico questo inizia bene e anche bene la r per iniziare ecco da qui la bomba e delle delle bomba ok ti metto i splash ok di 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 il delle pi inizio Perfetto. C'è qualcos'altro? Ah sì, dovevo spaccare un po' tutto. Ok. Ok, siamo in safe, quindi tecnicamente siamo a posto. Allora, per sicuro adesso do una bello strata col cecchino. Uh, bello un cecchino. Ok, da qua. Ok, adesso ho un po' per vedere. Ok. Ok. Ok, ho anche una mitraglietta. Ok. 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 Like. Ok. 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 però però è un vero bisogna aspettare quindi un'altra carta un po' con un scildone magari ce lo facciamo e perchè dei colpi per il pompa? perchè sennò ce ne ho pochissimi perchè il pompa a carica vediamo se ci sono delle band non è che mi servono tanto non sono dei colpi per la pistola guarda mi sto sontanando da la safe se c'è un'auto no no ok ah c'è un fondo no ha già fatto la salute non ho scordato faccio un'auto stai sempre in guardia oggi la persona no i bot no 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 me devo andare da qui me devo andare da qui me devo andare da qua subito subito subitino no 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 mi botto per favore no no non devo fightare no non fightiamo per favore perchè se non finisce a schifo perchè i botto è veramente su una rottura di palline lì sto vedendo quest'auto mmm quanto pare qualcuno la lascia da qui no 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 Grazie a tutti. 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 No, 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 no. Grazie a tutti. 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 , , , No, 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 no. No, 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 no. No Va bene ragazzi Da questo video assurdo Da Nuvola Da me e da Fortnite Ci vediamo in un prossimo video Ah mi raccomando può essere che tra un po' farò una live Cioè non lo so ragazzi Da quando è che lo pubblicherò il video Quindi in base farò poi la live dopo Va bene Ciao